Benvenuti nella Galassia Rattics. Ecco a voi Hyundai Tucson X-Line. Questo SUV è perfetto per le famiglie, offrendo un mix di prestazioni eccellenti e tecnologia avanzata. Nonostante sia usata, è in ottime condizioni, pronta per portarti ovunque tu voglia andare. Con il suo cambio manuale e il motore ibrido benzina più elettrica, offre un'esperienza di guida dinamica ed efficiente. Con soli 27.606 km certificati, puoi essere certo di avere un'auto affidabile che ti accompagnerà per ancora molti chilometri. Se sei interessato a questa Hyundai Tucson o ad altre vetture disponibili, non esitare a visitare il sito rattics.com per ulteriori informazioni e offerte speciali.